Gli spiriti del Natale Capitolo 3 Oggi è la terza domenica di Avvento. La prima, la seconda e la terza candela della nostra corona dell'Avvento hanno illuminato la casa tutto il giorno. Ora sono nella mia cuccia e aspetto lo spirito del Natale. La pendola suona alla mezzanotte. Dodici rintocchi. Ancora nessuna luce. Anche questo spirito arriva in ritardo? Poi sento una vocina. Ehi, ehi Kira, qui sotto! Sotto dove? Mi guardo in giro e poi noto una luce sotto l'albero di Natale. Buonasera, Kira! Ehm, buonasera! Lo spirito è davvero piccolo. Ha le orecchie a punta e anche un cappello a punta. Sembra un folletto. Vicino a lui c'è un libro che è quasi più grande di lui. Sai chi sono io, vero? Chiede lo spirito e tira fuori dalla tasca un paio di occhiali rotondi. Uno spirito del Natale? Esatto! Mi chiamo Altruismo! Dice lo spirito e comincia a sfogliare le pagine del suo grande libro. Che cosa stai facendo? Cerco il tuo nome! Dice lo spirito. Ecco qua! Esclama alla fine. Soddisfatto, indica con il dito una pagina. Io la guardo. Non capisco niente. Che lingua è? Esclamo delusa. Ah, giusto! È la lingua degli spiriti. Ma perché c'è il mio nome in quel libro? In questo libro ci sono tutti i nomi e molte altre informazioni. Per esempio? Per esempio che ieri hai rubato tre sacchettini di biscotti di Natale e li hai mangiati tutti. Ops! Comunque, aggiunge lui, ci sono anche informazioni utili come i nomi e gli indirizzi dei tuoi fratelli. Oggi andiamo a trovarli. Davvero? Che bello! Esclamo felice. Lo spirito chiude il libro e quello scompare, come per magia. E poi salta sulla mia schiena. Fantastico! Ho sempre sognato di cavalcare un cane! Poi versa un po' di polvere luccicante sulla mia testa. Sorpresa, mi alzo, ma le mie zampe non toccano più il pavimento. Accipicchia! Sto volando! Ti piace la mia polvere magica? Chiede lo spirito allegramente. Adesso sei come uno spirito. Nessuno ti può vedere o sentire. Puoi passare attraverso i muri e puoi anche volare. E ora si parte! E così volo nella notte. Non ci sono nuvole e si vedono tante stelle. Fa un po' freddo, ma per fortuna indosso la mia bella sciarpa che mi scalda. Dopo un po', lo spirito esclama. Ecco la fattoria! Siamo arrivati! La fattoria si trova su una collina e io atterro sul prato di fronte alla stalla. È tutto molto silenzioso. Solo delle campane si sentono in lontananza. Lentamente entro nella stalla. Ci sono tantissime capre e pecore e tutte dormono tranquille. In un angolo dormono anche dei cani. Guarda spirito, quello è il mio fratellone! Mio fratello dorme profondamente, raggomitolato sulla paglia. La paglia non sembra molto comoda. Perché non ha una bella cuccia per dormire? Vedi, Kira, tuo fratello è un cane da protezione delle greggi. Un cane da protezione di che cosa? Un cane da protezione delle greggi, ripete lo spirito. Vuol dire che protegge le pecore e le capre. Lui e gli altri cani dormono qui perché proteggono gli animali anche di notte. Sono come degli angeli custodi delle pecore e delle capre? Lo spirito ride. Esatto, degli angeli custodi. A lui non interessa avere una cuccia comoda o una sciarpa morbida. A lui interessa solo proteggere il grecce e rendere fiero il suo padrone. Lui lavora duro, ma lavora sempre per gli altri e lo fa con grande passione. Io non so cosa dire, sono molto impressionata. Vieni, Kira, andiamo! Dice lo spirito ed esce. Io vado da mio fratello, gli do un bacio e sussurro. Sono fiera di te. Mio fratello apre gli occhi e si guarda in giro, ma non può né vedermi né sentirmi. Buon Natale, fratellone! Esco e ripartiamo. Durante il viaggio penso al mio fratellone. È proprio un bravo cane. Lavora tanto e pensa sempre agli altri. Chissà se anche la mia sorellina vive con pecore e capre? Ma quando lo spirito dice Siamo arrivati! Non atterro in una fattoria. Anche questo posto è molto grande, ma non c'è nessuna stalla. Ci sono solo gabbie. Tante gabbie. Dove ci troviamo? Siamo in un canile, risponde lo spirito. Qui vivono i cani che non hanno una famiglia. Che non hanno una famiglia? Ripeto scioccata. E perché non hanno una famiglia? Ah, ci sono diversi motivi. Alcuni cani sono nati sulla strada e nessuno li ha adottati. Altri avevano una famiglia, ma poi la famiglia non poteva o non voleva più tenerli. La famiglia non li voleva più? Ma è terribile! Esclamo ancora più scioccata. Aspetta, non mi dire che... Non mi dire che mia sorella è qui! Senza aspettare la risposta, corro da una gabbia all'altra. Alcuni cani dormono, altri abbaiano, altri piangono. Tutti gli occhi trasmettono una grande tristezza. E poi, eccola lì. Sta dormendo raggomitolata in un angolo della gabbia. Le coperte sono vecchie, il suo cuscino è rotto. Lei è molto magra, scheletrica e piuttosto sporca. Perché? Perché si trova qui? Che fortuna che hai tu, Kira! Hai una casa, una famiglia che ti vuole bene e quest'anno trascorrerai un bellissimo Natale. Tua sorella, invece, non ha niente. E per la seconda volta questa notte non so cosa dire. Una lacrima scorre sul mio viso e cade sul pavimento freddo. Qualcuno deve aiutarla. Tutti questi cani hanno bisogno di aiuto. Perché le persone non li adottano? Li adotto io, tutti! Possono venire a vivere a casa mia! Lo spirito scuote la testa. Mia cara Kira, purtroppo non è così semplice. Non puoi adotterli tutti. Non puoi salvare tutti i cani del mondo. Possiamo solo sperare che presto trovino una famiglia. Lo spirito ha ragione, ma non mi piace. Restiamo in silenzio per un po'. Poi mi tolgo la bella sciarpa che mi ha fatto padroncina e la metto dolcemente al collo di mia sorella. Lei ne ha più bisogno. Fa piuttosto freddo qui. Buon Natale, sorellina! E poi torniamo a casa.